10 milioni di euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla chiusura del viadotto Puleto lungo la E45, sotto sequestro per rischio collasso dallo scorso 16 gennaio ed ancora chiuso al traffico pesante. Ad annunciarlo tramite social network è stato il ministro dello sviluppo economico Danilo Toninelli. Il governo del cambiamento ha scritto sta mantenendo gli impegni presi e con il decreto crescita è arrivato un importante sostegno economico in favore dei lavoratori e delle imprese colpiti dalla chiusura. I 10 milioni stanziati sono il segnale tangibile della vicinanza dell'esecutivo ai cittadini e dell'importante lavoro portato avanti anche dai parlamentari del Movimento 5 Stelle del territorio. Ma al tempo stesso il ministero è anche attento nel vigilare sulla tempestiva azione di ANAS che sta già operando per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della triberina Trebis e che una volta arrivato il via libera dei magistrati e aretini potrebbe portare a compimento, conclude Toninelli, la parte più urgente del cantiere del Puleto in una decina di giorni. I fondi saranno ripartiti tra i soggetti coinvolti sia sul versante toscano che in quello romagnolo, dunque la parte che interesserà la valtiberina aretina andrà a sommarsi ai 4 milioni già stanziati in ambito regionale da Toscana Muove. A beneficiarle in questo caso saranno le aziende e le realtà produttive che si trovano nei comuni di Anghiari, Bagliate d'Alda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino e Chiusi della Verna. In particolar modo il fondo è destinato alle micro, piccole e medie imprese e ai liberi professionisti che hanno subito un danno indiretto.